veri GR1. Questo è quello che succede in Campania ma le esigenze sui territori non sono omogenee e la risposta arriva quindi con misure mirate. Proprio su questo aspetto dell'ultimo DPCM la collaborazione con i sindaci dopo le polemiche dei giorni scorsi al giornale radio parla la ministra dell'interno Luciana Lamorgesa. Uomini e mezzi sono sufficienti perché non dimentichiamo che noi abbiamo già volto grandi controlli durante il periodo del lockdown. Quale la strategia? La strategia da adottare è chiara. I sindaci individueranno le zone dove maggiormente si formano assembramenti insieme con le autorità sanitarie delle altre. Porteranno le loro proposte al prefetto che definirà la razionalizzazione delle forze in campo. Le forze in campo noi le abbiamo avute durante tutto il periodo del lockdown. Soprattutto abbiamo mandato rinforzi là dove era richiesto e dove era necessario. Chiarimento e pace fatta con i sindaci che nei giorni scorsi avevano denunciato di essere stati lasciati soli? I sindaci volevano avere dei chiarimenti e in questi termini ci siamo ritrovati perfettamente. Io ho assicurato la la presenza delle forze di polizia insieme alla polizia locale verranno utilizzati anche i militari di strade sicure. Io dico che giochiamo una stessa partita che è quella della sicurezza dei cittadini. Bruno Sokolovic e GR1.